Primo accesso per la Google Suite for Education. Allora, apri il browser di Google e poi digita Gmail. Quando chiede l'indirizzo, inserisci l'indirizzo mail che ti è stato fornito dalla scuola e poi la password che ti è stata data. Una volta accettate le condizioni per l'utilizzo, viene chiesto di inserire una nuova password. Inserita la nuova password, finalmente hai effettuato l'accesso nel tuo nuovo account d'istituto. Ti verrà chiesto di scegliere che tipo di configurazione vuoi. Dopodiché ecco che sei dentro. Allora, da questo momento questa è la tua casella di posta d'istituto. Dovrai abituarti a guardarla perché spesso ti arriveranno delle mail da colleghi, gruppi di lavoro o tu stesso dovrai utilizzare questa mail per contattare i tuoi colleghi. Cliccando in alto a destra, su questa icona, trovi le Google Apps. Cliccando, scende una finestra che riassume gli strumenti che la Google Suite ti offre. Oltre al servizio di posta, c'è Google Drive che è una sorta di archivio, in questo caso illimitato, in cui potrai salvare tutti i tuoi lavori, i tuoi documenti e anche i lavori e i documenti dei tuoi alunni. Docs è l'applicazione per scrivere testi. Sheets è il foglio di calcolo, quindi insomma l'equivalente di Excel. Slide è l'applicazione che serve per fare le presentazioni. Poi c'è il calendario che sarà utilissimo per gestire le attività e gli spazi della scuola. Quello che guardiamo adesso è Classroom. Allora, cliccando su Classroom si apre questa finestra, controlla che ci sia correttamente il tuo nuovo indirizzo di posta, clicca su Continua, ti viene chiesto di specificare se sei uno studente o un docente. Ovviamente scegli sono un docente. Cliccando sulla crocetta in alto a destra è possibile cliccare e creare la tua classe, il tuo corso. Allora, iscriviti al corso significa che puoi accedere a un corso creato da qualcun altro. Crea Corso invece ti permette di creare una classe. Perché c'è scritto Corso e non classe? Perché, vedremo più avanti, in realtà tu potresti creare anche dei gruppi di lavoro. Non so, per dire, se sei un docente che fa il CAT del pomeriggio, potresti utilizzare Classroom per creare una classe con gli alunni che frequentano il corso di inglese, che provengono da classi diverse. Adesso andiamo sul semplice e vediamo di creare una classe. Si apre questa finestra, in realtà l'informazione obbligatoria è solo la prima. E poi, cliccando su Crea, ecco quello che accade. Allora, siamo entrati nella pagina di Classroom. Qui c'è il codice che dovrai dare ai tuoi studenti per invitarli nella classe. Allora, come puoi vedere, qui ci sono diverse sezioni. La prima è lo stream, praticamente è la pagina iniziale nella quale si può dialogare con gli alunni. Qui si possono postare documenti di qualsiasi genere, si possono anche allegare documenti di testo, video, link e i ragazzi possono rispondere a quello che è stato scritto. Poi c'è la sezione lavori del corso, che è la sezione in cui si possono creare, diciamo, i compiti, insomma, assegnare il lavoro agli alunni. Crea compiti e domande. Si possono organizzare gli argomenti per settori, c'è il calendario che permette di tenere d'occhio le scadenze e poi c'è sempre la cartella drive del corso, perché tutto quello che noi pubblichiamo all'interno di Classroom viene automaticamente salvato nel drive. Io posso anche decidere se, quando voglio mandare un messaggio, lo mando a tutti gli studenti della classe oppure posso selezionare semplicemente quelli che mi interessano. E poi nella parte persone c'è la gestione di chi accede a questo corso, quindi gli insegnanti, gli altri insegnanti, perché noi possiamo invitare degli altri insegnanti, magari della stessa classe, al nostro corso e poi tutti gli studenti. Allora, io ti auguro buon lavoro e ti do un consiglio. Per imparare velocemente a utilizzare questi strumenti bisogna effettuare il prima possibile l'accesso e cominciare a pasticciare, provare, vedere quello che succede. Io comunque sono sempre a disposizione.